Paura di cosa? Dicono tutti che l'hanno uccisa le anime dei morti, i fantasmi. I burdalac sono cadaveri che hanno sete di sangue, il sangue di coloro che in vita hanno maggiormente amato. Tieta! 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 Ora so che mi ami, Vladimiro. So che mi ami più della vita. Le mie labbra sono morte senza i tuoi baci. Non aspettare. Baciami. St'attento, Giorgio! St'attento! Se lo fai mi uccido! Vedo il tuo corpo stupendo, le tue braccia morbide, le tue gambe perfette. No, non coprirti. Ma perché hai chiamato la tua amica Mary? Speri che possa aiutarti? Credevi che non sentissi, Rosie? Hai parlato piano, ma è inutile, perché io ti sono vicino. Te l'ho detto, molto vicino. Prima dell'alba tu morirai. Appeto! No! 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 No!